È uscito in questi giorni l'ultimo libro del Vescovo Domenico intitolato Economia Umana, la lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo, una rilettura sistematica, pubblicato da Vita e Pensiero, casa editrice dell'Università Cattolica. Dopo le tre anteprime a Foligno, Napoli e Roma, il volume di 368 pagine che illustra la visione tonoliana del rapporto tra etica ed economia sarà oggetto di ulteriori presentazioni e approfondimenti in diverse città italiane. Si tratta di una rilettura sistematica, dalla A alla Z, del pensiero di un economista che è stato leader del movimento cattolico tra 800 e 900. Un pensiero poco conosciuto e dimenticato che torna oggi d'attualità di fronte a un'economia globale indubbiamente cresciuta, ma ancora soggetta a sfide su questioni drammatiche come la disuguaglianza, la povertà e il dissesto ecologico. Il libro, composto dall'introduzione e 23 capitoli, si apre con la presentazione del professor Stefano Zamagni, che denuncia la marginalizzazione subita da Toniolo, a cui il Vescovo Domenico, già postulatore della sua causa di beatificazione, restituisce il giusto spazio storico, scientifico e culturale. Il libro si può trovare in tutte le librerie e sul sito della casa editrice.